Ieri, alle ore 10, presso il Palazzo della Cultura di Locri, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei primi dieci classificati alla gara regionale delle Olimpiadi di Filosofia. Una vera e propria tavola rotonda sui filosofi Cartesio, Rousseau, Benjamin e Barz. L'attività è stata coordinata dal professore Antonio De Giorgio. I ragazzi vincitori che hanno avuto modo di confrontarsi con le docenti di filosofia Unical, Anna Bella Datri e Donata Chiricò, sono stati premiati con l'attestato di partecipazione e un libro del filosofo che hanno trattato nei loro saggi. Troppe Ferdinando e Messero Chiara sono i due ragazzi della regione che hanno partecipato alle Olimpiadi nazionali e premiato ulteriormente con una targa. Un incontro culturale significativo in cui le eccellenze filosofiche del mondo scolastico calabrese hanno avuto modo di confrontarsi fra di loro. Allora, siamo veramente molto contenti di ospitare l'evento, questo incontro di cultura che vedi i ragazzi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Filosofia, protagonisti di un dibattito su diversi filosofi. E' bello che questa manifestazione sia finalmente qui all'Ocri perché ancora una volta l'evento culturale fa una differenza e rende questa nostra terra un po' migliore rispetto a quello che di solito fuori si vede. Allora, nel ringraziare tutti i partecipanti naturalmente siamo lieti di essere la scuola che ha promosso, l'istituto che ha promosso questo evento culturale. Qui all'Ocri, al Palazzo della Cultura, ha luogo la cerimonia di premiazione delle Olimpiadi di Filosofia, fase regionale, che il nostro istituto ha organizzato in collaborazione con l'Unical e con l'Ufficio Scolastico regionale. Un momento significativo dal punto di vista culturale che vede confrontarsi le eccellenze filosofiche del mondo scolastico calabrese su importanti tematiche filosofiche. In questa occasione mi preme ringraziare la nostra dirigente, la professoressa Giovanna Maria Autelitano, che sostiene da sempre questa iniziativa e il gruppo di lavoro che mi ha affiancato con i docenti del Grande, Nucera e Romeo, perché per noi le Olimpiadi di Filosofia sono ben altro che una gara. Le Olimpiadi di Filosofia sono un'occasione per esercitare il pensiero, per confrontarsi, per discernere, per valutare, perché la filosofia è ben altro che l'esercizio sterile della ripetizione del pensiero degli autori presenti sul manuale dei libri di scuola e appunto saper esercitare il pensiero, attivare la mente. E noi siamo qui con questo intento, quello di promuovere un buon pensiero, perché solo un buon pensiero può dare luogo a una buona vita. Ed è quello che noi auguriamo ai nostri alunni, futuri cittadini, una buona vita.